Qua dentro c'è il sapore della mia terra, del mio friume, Montasio e Polenta. Le cose buone ci sono, ci sono anche surgelate. Surgetal è un'azienda che nasce nel 1980 come piccolo laboratorio di pasta fresca, come ce ne sono stati tanti e come ancora oggi ce ne sono tanti in Romagna, con una vocazione, una vocazione per la ristorazione, per la produzione di pasta fresca, proprio per questo settore, con un'idea, un'idea venuta per non buttare via il prodotto che rimaneva la sera, quella di surgelare, riuscire a dare al ristoratore un prodotto sempre più verso il fatto a mano, un prodotto sempre più artigianale, ma con un contenuto di servizio altissimo. L'importante comunque è la qualità e qui c'è il giusto compromesso tra qualità grande e tempo. Io risparmio. Sicuramente è una sfida interessante anche perché nel mondo della pasticceria insomma abbinare la pasta è un po' un azzardo, ma un azzardo che mi è piaciuto, mi sono divertito, quindi ho cercato di creare degli abbinamenti che potessero andare bene. I prodotti oggi per un pasticcerio sono una sfida, come dicevo, è un azzardo. Per gli chef penso che sia una grossa mano per cercare di servire piatti di qualità, quindi piatti superiori partendo già da una base di, ripeto, pronta, ma sicuramente di elevata qualità.